Eccoci qui ragazzi, facciamo un bilancio. Allora siamo tornati a casa adesso da Torino, è stata una grandissima serata, molto emozionante, vibrante. Io devo ringraziare tutte le persone che hanno lavorato all'Allianz Stadium e gli steward, i tecnici che ci hanno messo in condizione di fare bene il nostro lavoro, i tecnici lì a bordo campo, tutte le persone che hanno lavorato anche fuori, anche la gente che è stata così carina ad accogliermi al parcheggio, tutti i tifosi della Juve mi hanno fatto piacere fare delle foto e scambiare delle chiacchiere con voi, poi c'è stato anche qualcuno che non la pensava così, pazienza, però l'importante è che è stata una grande serata di calcio, il calcio è il centro di tutto, portiamogli rispetto, il senso del mio lavoro è questo e sono contento di averlo fatto con il solito amore, la solita passione e il solito entusiasmo. Grazie a tutti, l'obiettivo è sempre arrivare alla testa e al cuore delle persone, non smetteremo mai di farlo. Grazie alle tante persone che mi seguono e ci seguono. Viva il fútbol!